buongiorno allora sono qui a capodimonte nella mia zona da pizzeria e friggitoria bruno sono qui da pizzeria e friggitoria bruno è l'antica pizzeria di capodimonte della mia zona dal 1958 io qui da bambino venivo sempre a mangiarmi le loro fritturine adesso sono qui con voi ad assaggiarne una andiamole a comprare ed eccole qui le famose fritturine allora ho preso tre panze tre croquets e tre zeppoline allora vengono a costare tre pezzi un euro andiamo a assaggiare questo croquet di patate e andiamo ad assaggiare anche questa zeppolina sono ottimi sono proprio buoni vi consiglio vi consiglio vi consiglio di andarci qualche domenica mattina quando andate al bosco ciao a tutti alla prossima